Da quando Frederic Wasser è passato alla Ferrari come caposquadra della gestione sportiva, le aspettative sul cavallino sono aumentate a dismisura e i vertici della scuderia con tutti i tifosi sono ansiosi di vedere cosa cambierà. Per fare in modo che non si ripeta quanto accaduto nella passata stagione, iniziata alla grande e finita a fatica con la minaccia quasi reale della Mercedes, Fred non aspetterà troppo a lungo per stabilire le gerarchie della squadra, che è stato uno dei motivi di critiche della gestione di notto, poiché è un manager che ha fatto della filosofia ad una punta il suo stile di vita ed è determinato a vincere entrambi i campionati.